let's go guys scusate per questa assenza ma sono stato veramente male sono ancora malato ma non ho la febbre alta comunque ho voluto fare questo video anche se sono un po' malato giusto per spiegarvi come sbloccare l'altra top top secret però prima voglio parlarvi di due novità del canale la prima è che molti di voi mi hanno chiesto di aprire la pagina di facebook e l'ho fatta si chiama power e al posto della e c'è il 3 quindi vi invito ad andarci e a mettere mi piace oltre a questo come vedete è cambiato l'overlay del canale cioè l'header e la grafica è stata fatta da un designer in questo caso australiano che hanno fatto un piccolo contest in cui mi mandavano le grafiche io avrei dovuto scegliere tra di loro il vincitore questo ragazzo Leo Art Design ha fatto questa grafica secondo me è una delle migliori tra quelle che sono state proposte e quindi vi invito magari a passare su diciamo nei suoi social media qui è raggiungibile se vi serve qualcosa ho lasciato tutto nelle descrizioni comunque oltre a questo vi volevo parlare di come si sblocca la toppa con Sasquatch non si scherza qui potete vedere com'è l'ho fatta anche io per farla è molto più semplice della seconda toppa cioè questa io ci vado pesante ma perché è più semplice tirare una coltellata da dietro ad un tizio vestito da uomo pianta vi spiegherò dopo tutto il procedimento comunque è abbastanza semplice dovete trovare solo il momento giusto per farla e niente di più niente di meno ma cos'è il Sasquatch? ecco cosa con Google Immagini cosa è arrivato c'è una sorta di Bigfoot orrendo enorme e non ho idea proprio cioè davvero un po' ci assomiglia all'uomo pianta di Call of Duty Ghost come vedete mi sto correggendo che voi odiate che dico Call of Duty Ghost ma ormai è un vizio che ho da tantissimo tempo e dire Kelly invece di Call e oltre a questo niente vi lascio la spiegazione bene per sbloccare questa toppa dovete accoltellare da dietro un giocatore vestito con questa mimetica ne troverete tanto i abizzeffi ne troverete proprio tanti questo perché? perché si sa su Call of Duty è pieno di malati con il cecchino è proprio pieno ma come se tutti gli spara tutti tutti hai c'ho il cecchino sono Bob Lee Swagger sono figo one 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 sono fighissimo bellissimo bravissimo ne troverete tantissimi poi tanto li vedrete camperati nei peggio posti quindi vi basterà andare da dietro e zac la mata nella schiena ora vi farò vedere un attimino una piccola cosa allora vi sto facendo vedere in privata praticamente quello che dovreste fare voi cioè dovreste spottare un giocatore con la mimetica da uomo pianta da Sasquatch Bigfoot come lo volete chiamare in questo caso Armanazzo si è prestato per questa piccola partita privata per farvi capire come si è proprio medesimato in un giocatore uomo pianta come vedete è pronta ad uccidervi se passate da là proprio e a farvi rosicare comunque vi basterà trovarlo di solito si mettono in posizioni ben nascoste sopra le case così arrivate da dietro bam lo lamerete e vi darà un obiettivo che sarà proprio don't mess around with Sasquatch scusate ma io l'ho sbloccato che era in inglese comunque oltre a questo è abbastanza semplice da fare quindi vi lascio spero di fare comunque di guarire completamente e di poter fare gli altri video che mi ero promesso come quello specialmente della corsa infinita o dei punti doppi quindi vi saluto bella raga